ciao a tutti eccomi qua per il dungeon di san valentino una perfida strega degli abissi provo a farlo con questo team vedere un attimino se riesco a one shotarla perché come scontro è abbastanza l'ho già fatto prima ho avuto un attimino di difficoltà ho rischiato pure di morire ad usare un revive e adesso voglio provare a farlo così con con l'elemento di luce come buff se carica sì ok perfetto allora inizio abbastanza come un classico soliti scontri così voglio provare questa combo doppio maxwell se se rende veramente voglio provarla a shottare proprio in un turno perché come abilità sicura se fa abbastanza danno c'è un paio di aoe che sono veramente devastanti e di danno ce n'è tolto ho tolto gli effetti perché così è molto molto più fluido il gioco specialmente quando registro e tanti quando non migliora un attimino la ram del computer penso che la tengo contendo così abbastanza semplice mi spiace comunque di essere stato tanto a sete adesso per motivi di lavoro però adesso cercherò di fare quello che mi rimane in più oggi se non sbaglio comincia il frontier hunter 11 quindi farò i video anche di quello e poi cercherò per la settimana prossima di fare la trial 4 perché ci ho già provato una volta solo che dopo un'ora di scontro sono 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 stato ucciso malamente quindi mi servono giusto due o tre accorgimenti poi dopo potrò fare il senza senza problemi è tosta è questa mi ricordavo la curatina gliela do a melchio va che non si sa mai che mi fa qualche sorpresa andiamo un po' che è morta anche nei e vai andiamo 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 di altra va beh non dovrebbe esserci nessun problema un paio di round risolvo tutto e andiamo andiamo un po' per una volta ci sono rimasto male da quanto era grossa è come 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 immagine ma l'aspettavo così guardate che gigante vediamo così melchio me lo sono portato perché se nel caso che sopravvive praticamente lei fa curse e poison con quasi tutti i suoi attacchi sia normali che con i normali non mi ricordo però di brave bust quindi ecco vedete vediamo un po' il danno il danno è tanto eh è in più sicura è abbastanza antipatica come come scontro però col doppio maxwell non è un problema che magari al posto di darvanshell mi sarei dovuto portare uno che aumentava il danno un bel rischio qui eh vediamo però non dovrebbe essere un problema perfetto poi ho già pure trovato vediamo se me la droppa di nuovo ok no perché c'ho già mi è già droppato il l'omino ho fatto questo video anche messo via in maniera veloce adesso farò anche gli altri video ci vediamo alla prossima e ciao 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 ciao